L'argomento invece a cui mi volevo dedicare è questo che vedete nel titolo dell'ecologia linguistica. Ieri si parlava con molta dovizia di interazione tra l'uomo e l'ambiente anche ai tempi in cui la lingua non era ancora sviluppata o perlomeno chiamiamo che non lo fosse. E volevo fare un po' un excursus su questa nuova, in realtà non è affatto nuova, su questa disciplina dell'ecologia linguistica che ultimamente specialmente per le lingue di minor diffusione è molto importante. Perché siamo reduci, Gildo e io, da un paio di giornate di studi che abbiamo fatto proprio in Val dei Mocchini. Il Mocchino per i colleghi romani è una lingua di origine germanica sud-bavarese e più o meno del 1200 che risale al 1200 un'isola linguistica che è qui in una valle del Trentino a fianco della Val Sugana, se avete voglia di andare a farvi un giro è anche una bellissima valle e hanno mantenuto questo linguaggio che per noi germanisti è veramente una miniera d'oro. Ci sono anche i cimbri dall'altra parte, sempre sud-bavaresi e che sono anche una minoranza germanofona tutelata. E noi siamo molto impegnati, anche Birgit Alver fa parte del nostro comitato scientifico, siamo molto impegnati non soltanto nella ricostruzione di questa lingua, nella costruzione di strumenti per documentarla, per renderla affettibile, per insegnarla, per testimoniarla, ma anche per non farla morire. Perché tutte le lingue di minor diffusione stanno correndo dei rischi molto forti. Se voi guardate l'Atlante linguistico che c'è online vedete che queste nostre minoranze germanofone trentine sono classificate come ad altissimo rischio di estinzione. Allora uno dei problemi non è soltanto quello di codificarle o di renderle o di insegnarle o di diffonderle, uno dei problemi è anche quello di trovare le motivazioni sufficienti nella popolazione, nei parlanti di maggioranza e di minoranza per capire che questi patrimoni vanno tutelati. E uno, una motivazione che a quanto pare, io lavoro molto con le scuole, può far breccia soprattutto nei giovani, è proprio questa idea dell'ecologia linguistica. Allora ho provato e sto provando a ricostruire un po' il cammino dell'ecologia linguistica per vedere come è possibile utilizzarlo in chiave anche interdisciplinare, in particolare per le lingue di minore diffusione, ma non solo. Allora molto brevemente l'ecologia linguistica per la prima volta, diciamo, dal punto di vista scientifico, nasce come una rivendicazione da parte di lingue, ma soprattutto regimi socioculturali e politici nei confronti di, diciamo, nazioni, popoli, gruppi che non appartengono alla lingua e alla cultura dominante. Uno di questi articoli è stato quello che vedete qui, uscito nella rivista Literary Georgia dell'89 a cura di, spero di pronunciarlo bene, Thomas Gamkrelizde, che si chiamava proprio Ecology and Culture e che nomina, per la prima volta cita il termine ecologia, abbinandolo alla psicobiologica, l'ecologia psicobiologica, nel senso che dice noi abbiamo moltissima attenzione alla diversità di tipo appunto psicobiologica, ma ignoriamo completamente i problemi legati all'ecologia culturale, che sembrano due mondi diversi, no? Quindi il problema è, se partiamo dalla lingua, per parlare poi di ecologia linguistica, che idee abbiamo di lingua? Ieri ne abbiamo sentite molte di questi abbinamenti, lingua essenza della lingua come simbolo, la lingua è un fatto, diceva Wittgenstein, la raffigurazione logica del mondo, l'emergenza evolutiva, ieri il dottore, non mi ricordo, mi scusi il nome, comunque parlava, la lingua è un'emergenza evolutiva, non può non essere, no? Quindi come facciamo ad abbinare questa idea di lingua all'idea di un'ecologia e quindi di diversità? Qui abbiamo omesso alcune citazioni per orientarci un po' meglio sul tipo, sulle varie definizioni che sono state date, a me piace moltissimo, lo diceva anche il professor Destro-Bisol ieri quando parlava di Pinocchio, e naturalmente la suggestione immediata che mi è venuta è quella della lingua bugiarda di Weinrich, che però è una traduzione molto brutta perché il titolo originale del saggio di Weinrich è Linguistik der Lüge, cioè la linguistica della menzogna, la linguistica della bugia, non la lingua bugiarda, perché infatti Weinrich poi conclude dicendo che la lingua non mente, cioè che la parola non può mentire, ovviamente, di per sé. Quindi ci sono moltissime suggestioni che quindi ci aiutano un pochino, ci dovrebbero aiutare un pochino a capire come applicare poi nella realtà e anche nel nostro agire quotidiano il rispetto della diversità linguistica con le esigenze di un progresso. Quello che però a me è piaciuto molto ieri, nei tutti i seminari che ho sentito, è stata questa idea di interazione, cioè l'idea che il vero passo avanti, anche a livello interdisciplinare di diverse scienze, più o meno tutti gli interventi di ieri sono andati in questa direzione e anche quello che il maestro Luigi Rizzo ci ha raccontato prima, secondo me non è escluso assolutamente da questa visione, da questa ottica, è che da qualsiasi prospettiva scientifica noi guardiamo un fenomeno, raggiungiamo i risultati migliori solo se mettiamo le diverse prospettive in interazione tra di loro. Ed evitiamo una visione molto più semplice, molto più comoda, che piacerebbe molto a tutti, credo, di linearità. Avete fatto vedere, a proposito di bugia, la bugia della evoluzione umana dallo scimpanze curvo fino all'uomo che sembrava Texas Ranger come una vera e propria bugia. La bugia non sta soltanto nel fatto che assomiglia al Texas Ranger, ma al fatto che ci sia una linearità che va quindi dal punto di vista della dimensione in un'unica dimensione spaziale e in un'unica dimensione temporale progressiva. Oggi noi sappiamo che, per esempio, anche l'acquisizione del linguaggio dei bambini non è una progressione così lineare, certamente gerarchica, però ci sono anche, come si diceva ieri a mosaico, delle fasi che compaiono e ricompaiono. I fattori che interagiscono, che causano questi fenomeni, sono molti. Quindi io vorrei uscire da questa dicotomia linguistica che ha caratterizzato un po' gli studi linguistici fino adesso, cioè da una parte la lingua come organismo e quindi che obbedisce alle leggi solo della fisica e della biologia di un fenomeno autonomo, individuale, involontario, ciò che sono gli uomini e le donne e dall'altra parte la lingua come forma di comportamento, come un significato solo sociale o solo contestuale o solo collegiale o solo intenzionale ciò che gli uomini e le donne fanno. Ecco, nella linguistica questa separazione è stata abbastanza netta. Io ritengo che forse è il caso di esplorare delle strade che possano interagire e che possano anche fare interagire questi vari fattori perché non credo che si riesca ad arrivare a dei risultati interessanti soprattutto poi quando dobbiamo tradurre le nostre ricerche linguistiche anche in una politica linguistica o in dare una direzione anche sociale e culturale. Quindi parto da questa idea dell'interazione dialettica. Ieri abbiamo sentito che la nascita del linguaggio risponde anche a delle esigenze abbastanza precise di progettazione, di costruzione, di trasmissione di un sapere soprattutto pratico, fisico, le iscrizioni, i lavori materiali delle comunità che si basano sull'idea di significati condivisi. Questa idea quindi dialettica di interazione tra individui, tra individui contesti, tra individui e mondo è diventata, sta diventando l'ecologia linguistica. Cosa significa? Vi do alcune definizioni. Il primo che ha parlato di ideologia linguistica è stato Haugen, che è un norvegese, nel 60, in cui dice che dice la lingua esiste solo nella mente di coloro che la usano e funziona solo nel mettere questi utenti in relazione gli uni con gli altri e con la natura, ovvero il loro ambiente sociale e naturale. Parte di questa ecologia è quindi di natura psicologica, l'altra parte invece di tipo sociologico, di interazione con la società. Questa è una definizione che è stata poi superata in seguito grazie anche a una interazione di vari studiosi tra di loro, tutti accomunati da una visione abbastanza olistica sia del mondo sia del linguaggio. Il primo è stato Phil, naturalmente ereditando tutti gli studi di Gregory Bateson, di David Bohm, di Rupert Sheldrake, di Frederick Wester, anche Capra, che io qui non ho scritto, ma anche lui. Quindi insomma una visione olistica che nel ventesimo secolo si afferma soprattutto in area europea e non potrebbe essere diversamente. Come riuscire a conciliare l'idea di una lingua con l'idea di un legame con l'ambiente che sia rispettoso di entrambe, quindi ecologico. Direi che questa cosa, questo aspetto è molto interessante soprattutto ovviamente in primis per le lingue di minor diffusione perché il legame di queste lingue con l'ambiente è insito nel loro DNA. Inoltre c'è anche un fatto molto secondo me pericoloso e cioè che gli stessi parlanti di queste lingue ritengono la loro lingua non sufficiente per poter esprimere tutto quello che il mondo è diventato nel frattempo perché la loro lingua sembra legata ad un ambiente che non esiste più o che è in pericolo. Su questo voglio tornare più tardi perché in realtà non è proprio così. però è già molto interessante, purtroppo è negativo, il fatto che i parlanti stessi di queste lingue a pensarlo, di non avere a disposizione abbastanza lingua per poter esprimere tutto quello che desiderano e che vivono nel loro ambiente. Ecco, in questo senso io vorrei intendere l'ecologia linguistica anche con il confutare questa idea che secondo me è uno dei paradossi e dei miti che riguardano le lingue di minoranza. La relazione con le teorie sull'origine del linguaggio quindi è abbastanza evidente secondo me perché se noi partiamo dal presupposto che non c'è linearità, che c'è uno schema mosaico, che tutto deriva dall'interazione dovremmo concludere quindi che nessuna lingua dovrebbe essere in pericolo che quindi il rispetto della diversità linguistica e il rispetto dell'ambiente che le ospita dovrebbe essere una delle priorità di tutta l'umanità cosa che invece sappiamo bene che non è. Tra l'altro una cosa interessante ho trovato in Calvet non so come perché sono sempre molto mistilingui questi studiosi quindi i cognomi vanno un po' per conto loro che afferma che in altre parole voi potete leggere la citazione io mi soffermo sulla conclusione Cioè Calvet afferma che è l'ambiente stesso non il progresso è l'ambiente stesso che determina una selezione nell'evoluzione del linguaggio quindi in questa visione l'uomo e la donna l'individuo der Mensch in tedesco c'è una parola politica lì molto correct che non distingue il genere ma è la persona sarebbe soltanto come dire recepirebbe soltanto ciò che l'ambiente gli suggerisce e questo può essere una forza e una debolezza una debolezza ovviamente perché la persona avrebbe quindi soltanto una una funzione di ricezione e quindi di fatto non agisce direttamente sul proprio linguaggio però in realtà è una forza perché ad esempio se noi perdiamo perdiamo lingua perdiamo strutture perdiamo parole perdiamo anche una parte dell'ambiente e quindi questo binomio questo legame forte secondo me è ciò che potrebbe rendere molto più motivante e molto più comprensibile a chi non se ne occupa l'idea di una diversità effettiva non semplicemente folcloristica o museale di una vera e propria diversità come presupposto del nostro patrimonio umano antropologico i cambiamenti linguistici sono anche una parte ovviamente della storia umana noi sappiamo che però si tratta sempre di processi di lunga durata il problema è quanto durano queste fasi è possibile tornare indietro da queste fasi è possibile fare un'azione di resistenza al cambiamento oppure abbiamo sempre di nuovo un'altra dicotomia tra ciò che è ancestrale e ciò che invece è richiesto dal progresso dalla visione del futuro ecco quando i linguisti per esempio cercano di codificare sulla base dei materiali che hanno una lingua che non è mai stata codificata cioè che non ha mai avuto una grammatica che non ha mai avuto un dizionario come è il caso delle lingue di minor diffusione per tentare di lasciare una traccia e quindi nel tentativo giustamente di farla sopravvivere fanno un'operazione di cambiamento o fanno un'operazione di conservazione? questo secondo me è un interrogativo fondamentale perché nel momento in cui tu documenti una codifichi normi un comportamento che fino a quel momento non è stato normato in qualche modo lo fissi fissi una fase però questa fissazione avviene in un contesto che è comunque in movimento quindi rischiamo di cadere di nuovo o in un'ottica museale o in un'ottica di fossilizzazione o in un'ottica di cambiamento e quindi di perdita che comporta una perdita come vedete è un interrogativo non da poco perché dobbiamo assumere una prospettiva invece che non può essere semplicemente statica uno degli effetti più eclatanti di questa idea di cambiamento è proprio quello che Mackey ha configurato nell'ottanta cioè il declino di una lingua la perdita di un patrimonio e lui dice scrive sempre poiché l'ecologia linguistica non può essere sincronica deve occuparsi sempre di una sorta di avvenimenti che si sono succeduti uno dopo l'altro dobbiamo occuparci anche dell'opera di influenza di un gruppo su un altro ma anche in questo quando il comportamento culturale di un gruppo cambia per assumere il comportamento di un altro gruppo che in qualche modo lo domina o lo sovrasta o lo addirittura lo conquista voglio dire abbiamo sempre una peculiarità ecologica che è una serie di fattori per esempio lui dice il declino delle lingue nei diversi contesti storici non ha mai avuto gli stessi fattori il declino del latino in Francia non è stato uguale al declino del celtico in Irlanda ad esempio così come l'irlandese come lingua locale ha avuto anche delle caratteristiche dei destini diversi da quelle del basco in Francia in Spagna e potremmo continuare su questa cosa quindi qual è l'unico modo per poter vedere questa idea secondo me è un cambio totale di paradigma cioè andare da un contesto socio-culturale a un contesto meramente linguistico addirittura questi autori che sono spagnoli parlano di genocidio linguistico quindi usano dei termini molto forti per denominare quello che per loro è un imperialismo socio-culturale ad opera di lingue dominanti qui però noi ci dobbiamo chiedere come intendiamo la lingua perché è evidente che se qualcuno cambia il proprio patrimonio linguistico per assumere quello di un altro dobbiamo vedere che cos'è la lingua come intendiamo la lingua cioè questo è un interrogativo fondamentale per l'ecologia linguistica perché torniamo a quello che abbiamo detto prima perché dobbiamo tenere insieme una serie di cose no? Allora c'è qualcuno che ha parlato addirittura di Lebensraum questa parola che io non vorrei mai pronunciare però dal punto di vista così dell'ecologia linguistica si dice le lingue in Europa competono per il proprio Lebensraum cioè per il loro spazio vitale sociale geografico funzionale e quindi suddividiamo le lingue tra ancestrali piccole che sono tutte in pericolo a questo punto si apre un dilemma secondo me che porta anche a dei paradossi da una parte abbiamo il legame lingua-territorio che è molto forte e quindi abbiamo una serie di assiomi il popolo legato alle persone legato alla propria lingua legato al proprio territorio cosa succede quando cambia il territorio deve cambiare anche la lingua deve sparire la lingua per fare posto a una lingua che esprima meglio il territorio dobbiamo essere completamente come dire sottomessi a questo cambiamento perché così va l'evoluzione umana no considerando che altrimenti saremo rimasti ai dinosauri la risposta naturale potrebbe essere beh certo è nella natura delle cose no come facciamo però a perdere un patrimonio senza sapere di perdere anche tutta una parte non solo del nostro passato ma del nostro presente della nostra identità del nostro essere e qui ci scontriamo con una serie di paradossi che riguardano le lingue cosiddette di minoranza il primo paradosso è di tipo istituzionale lo ha individuato spagnoli o spagnoli lui è un italiano che però lavora in Francia quindi ho flessibilmente per la mia amica e collega fonologa Birgit ha usato tutte e due le pronunce così abbiamo integrato ecco le lingue ancestrali non sono mai state così tutelate dal punto di vista normativo come oggi abbiamo una serie di leggi che le proteggono dice spagnoli o spagnoli e in maniera come mai è successo prima però questo non impedisce comunque non ne impedisce la caduta non ne impedisce la scomparsa secondo paradosso è stata approvata la via della conservazione museale nella minoranza che io conosco meglio c'è un numero impressionante di musei e di installazioni museali credo anche a Luzerna rispetto al numero della popolazione e dei parlanti quindi evidentemente è stata scelta questa strada o comunque c'è stato c'è uno spirito museale molto forte da parte della popolazione stessa come concilia contemporaneamente il paradosso è che questi concetti sono sempre in mutamento quindi come facciamo a fare dei musei non possiamo fare un museo ogni giorno e non non possiamo fare nemmeno linguistica della bugia non possiamo dare nemmeno una rappresentazione lineare diacronica che non esiste altro paradosso la dinamica educativa per essere vitali queste lingue devono essere trasmesse non c'è alcun dubbio uno dei dei sistemi degli strumenti per poterli per poterle rendere vitali è il passaggio da una generazione all'altra come facciamo però a rendere queste lingue trasmissibili se ci basiamo solo sulla descrizione dei sistemi linguistici dovremmo basarci anche sulla ricerca della lingua stessa attuale quindi su cose molto più dinamiche come la registrazione come lo studio delle interazioni come i code switching tutta una serie di elementi che oggettivamente latitano un po' nonché sull'utilizzo di nuovi strumenti compreso chat GPT allora queste lingue pochissime sono le lingue di minor diffusione che utilizzano anche soltanto Facebook per dire per non parlare dei Whatsapp e di tutti gli strumenti questo significa tagliare fuori dalla comunicazione e dalla trasmissione automaticamente tutto un patrimonio linguistico ultimo paradosso quello tra la rivitalizzazione e la vitalità più che la vitalizzazione esiste solo una lingua nella storia che era tecnicamente morta e che poi è stata rivitalizzata ed è l'iddish perché l'iddish non ha più avuto una zona geografica di riferimento i suoi parlanti si sono dispersi tutto sommato questa lingua è stata in grado non solo di restare ma di rigenerarsi sempre no? non esistono altri esempi una volta morta è morta quindi anche qui Hagège ad esempio ha fatto che è un linguista francese ha fatto un lavoro molto interessante proprio sul diddish in cui ha dimostrato quali sono i fattori che hanno consentito questa rivitalizzazione e sono i fattori di vitalità cioè la lingua non è mai morta in realtà per i loro non solo per i parlanti ma anche per gli ambienti in cui i parlanti si trovavano è come se loro avessero ricostruito il loro ambiente in un altro ambiente cioè non si sono fatti conquistare o non del tutto o hanno trovato un'interazione tra l'ambiente in cui stavano e il loro ambiente privato e questo potrebbe essere anche una strada questo io lo trovo un paradigma abbastanza antico nel senso si è sempre pensato che non so se è questo slide esatto che i fattori di vitalità di una lingua fossero il numero dei parlanti la trasmissione e anche l'uso delle generazioni più giovani da parte di questa lingua in realtà nel caso del Moceno ma anche di altre lingue se voi andate a vedere qua c'è un fattore ed ecco dove secondo me deve agire l'ecologia linguistica come motivazione forte c'è un fattore importantissimo da tenere presente e cioè che la diversità è direttamente collegata alla stabilità noi non possiamo pensare a lungo termine di sopravvivenza diciamo che il fattore ecologico più determinante sia proprio la varietà cioè questa varietà e l'interazione tra la varietà diventa un sistema di sopravvivenza per tutto il sistema quindi non solo per quelli che hanno questa varietà questa diversità ma anche per la maggioranza cioè il rapporto tra lo dico molto brutalmente non mi piace il termine minoranza però è giusto per capire il concetto il rapporto tra la minoranza e la maggioranza è assolutamente dialettico nel momento in cui crolla la minoranza c'è un danno anche per la maggioranza nel momento in cui c'è un sistema che non sopravvive questo crollo di questo piccolo microsistema determina una perdita di stabilità per il macrosistema cioè è illusoria l'idea di un'unica lingua oltretutto sono tutte falliti sono tutti falliti questi esperimenti l'arabo l'arabo come lingua unificante di tutti i paesi di una certa zona geopolitica fallito andate a far parlare voi un beduino del deserto marocchino con un egiziano in arabo non si capiscono non sono esperimenti riusciti il discorso anche del latino come lingua franca abbiamo visto poi come è finita anche per esempio nel tedesco dove c'è stata una lotta furibonda giustamente dei primi monaci e dei monaci alfabetizzati tedeschi che hanno lottato per avere la liberazione liberarsi affrancarsi dal latino e creare poi la loro lingua quindi questa interazione totale di diversità e micro macro non importa è la chiave della stabilità del sistema e qui voglio concludere con una piccola un piccolo esperimento su cui sto lavorando ancora nella comunità mochina di cui appunto abbiamo parlato non esiste un unico sistema come dire fisso e immutabile cioè in altre parole non c'è soltanto la grammatica già codificata ottimamente grande lavoro da Anthony Rowley e non c'è soltanto il lessico che è confluito poi in una serie di dizionari fortunatamente grazie a un finanziamento del PNRR abbiamo anche la banca dati la banca dati che è informatica cioè vengono inserite le parole in un sistema computerizzato che può riprodurre anche i suoni sta scoprendo dei tesori che secondo me sono almeno su questo io mi voglio concentrare in futuro in presente in futuro sono secondo me un segnale vitalissimo di ecologia linguistica perché la persona addetta alla banca dati è una madrelingua e lei stessa mi ha detto io sto scoprendo parole che esistono vengono usate quindi non è il numero dei parlanti è anche il tipo di parola la categoria parola quale parola che hanno cambiato significato nel frattempo e che però vengono usate in entrambi i casi per esempio hoatzn hoatzn viene significa in mocheno addomesticare veniva usato per dire ho trovato un gatto per la strada era selvatico scontroso eccetera l'ho addomesticato ok in realtà questo è un significato che è comparso solo relativamente in maniera cioè adesso negli ultimi 50 anni perché prima veniva usato per dire allattare allora questo cambiamento di significati no che è anche un cambiamento ambientale non è però stata una perdita è stato un cambiamento di una lingua di minor diffusione quindi tutt'altro che morta viva cambiano i significati quindi non è vero che le lingue di minor diffusione non hanno i mezzi per esprimere hanno molti mezzi per esprimere e sono ugualmente vive come le lingue di non minor diffusione e sono anche autonome perché guardate qui il tedesco per dire addomesticato usa un termine cioè zemen però viene usato anche un termine latinizzante cioè ci sono molte parole che hanno due origini quella germanica e quella latina no domestizieren è chiaramente una una germanizzazione del termine latino quindi poaz non c'entra niente con domestizieren così come in inglese domesticate stessa origine stessa cosa è un verbo mocheno è un verbo legato a quella lingua a quell'ambiente che ha cambiato significato nel frattempo quindi queste sono le cose di segni di vitalità che possono cogliere soltanto si possono cogliere soltanto in una idea di interazione con l'ambiente e poi abbiamo scoperto una parola totalmente inaspettata ma che esiste e che i giovani usano che è lol che significa limonare e come vedete c'è anche una una certa onomatopea no non c'è sui vocabolari se tu vai sul dizionario mocheno non lo trovi però voglio dire in italiano non lo so però in i giovani lo usano quindi queste sono tutte ricerche che secondo me hanno davvero un legame molto forte con l'ambiente con una vita che non è però la vita del 1200 e non è la lingua fossile è una lingua che si è evoluta il problema è che noi dobbiamo andare a cercarle noi linguisti noi stessi dobbiamo assumere quindi un atteggiamento ecologico non museale e queste sono soltanto alcune delle cose che delle ecco volevo concludere con questa lettera di Gramsci che per me è da incidere sarebbe da incidere che scrive alla sorella dice no alla cognata forse dicendo non fare questo errore con i tuoi bambini non smettere di parlare sardo perché la cognata diceva sto cercando di far imparare l'italiano standard dai bambini che parlano solo il dialetto e lui dice intanto il sardo non è un dialetto ma è una lingua a sé quantunque non abbia una grande letteratura ed è bene che i bambini imparino più lingue se è possibile poi l'italiano che voi gli insegnerete sarà una lingua povera monca vedete maggioranza minoranza povertà ricchezza è tutto dialettico fatta solo di quelle poche frasi e parole delle vostre conversazioni con lui puramente infantile egli non avrà contatto con l'ambiente generale finirà con la prendere due gerghi e nessuna lingua un gergo italiano per la conversazione ufficiale con voi è un gergo sardo è un gergo sardo ha preso a pezzi e bocconi per parlare con gli altri bambini e con la gente che incontra per strada in piazza ti raccomando proprio di cuore di non commentere un tale errore e di lasciare che i tuoi bambini succhino tutto il sardismo che vogliono e si sviluppino spontaneamente nell'ambiente naturale in cui sono nati ciò non sarà un impaccio per il loro avvenire tutt'altro ecco io a parte che adoro Gramsci per altri motivi se gli altri motivi non erano sufficienti con questo gli avrei dato il Nobel di tutta la scienza e di tutta la politica eterno per sempre nelle lettere dal carcere e quindi qui c'è già tutto c'era l'ecologia linguistica la dialettica l'interazione perfino qualche suggestione per gli antropologi per le lingue l'evoluzione linguistica e credo che noi linguisti dobbiamo cominciare andando molto da lontano però andando avanti in questa prospettiva di conservazione e cambiamento in questa interazione se ci riusciremo grazie molto